Siamo veramente contenti di questo premio perché è un premio comunque allo sforzo per quanto riguarda l'azienda che sta facendo per tutte le cose che stiamo mettendo in atto soprattutto nel mondo del design che è una cosa penso molto importante e nuova per quanto riguarda un'azienda che si occupa specificamente solo di marmo e di lastre e di blocchi diciamo in questo caso, per cui è un riconoscimento importante, sono molto contento, sono fiero per me e soprattutto per loro perché se lo meritano veramente tanto. La nostra azienda sono anni che partecipa a Marmomac e tutti gli anni si presenta con un qualcosa di nuovo, fa grandi sforzi per cercare sempre di essere al passo con i tempi, con l'innovazione e con la tecnologia e con la scoperta dei nuovi prodotti. Noi siamo nati come un'azienda di produzione di blocchi, quindi lastre e da lì questo passo successivo a presentarci sul mercato con una gamma di prodotti dedicati esclusivamente all'interio e all'outdoor del home design.